Caterina, non capisco perché non possiamo sposarci dopo la scuola. Ne abbiamo già parlato. Costantino, avevamo 10 anni. Su cosa parli? Devi andare in esercito, poi ottenere una qualifica. Anche io devo studiare. Stai proponendo di sposarci e di gravare sui nostri genitori? Ottimo piano. Ma perché gravare? Andrei a lavorare. Per tre mesi? Poi andrai in esercito e io farò le pulizie. Perché sposata non posso vivere con gli studenti? Non ti succederà niente. Basta stare un po' a casa. Tornerò e poi studierai. Oh, difficile da credere. E poi, perché dovrei stare a casa tutto questo tempo? E come? Io farò il militare e tu studierai. Dici anche di vivere in un dormitorio. Costantino. Ora hai chiarito tutto. Andrò a studiare. Quando tornerai dall'esercito, vedremo. Ora non se ne parla proprio. Costantino la afferrò dolorosamente per il braccio. Quindi, pensi di entrare all'università, trovarti un ricco cittadino. Lasciami, mi fai male. Costantino allentò la presa. Scusami, per favore. Certo. Hai ragione. Non so cosa mi abbia preso. Caterina se ne andò in silenzio verso casa. Oggi Costantino le si è rivelato in un modo completamente nuovo. E questa scoperta ha riconfermato la sua convinzione di stare facendo la cosa giusta. Sì, per due anni anche lei pensava che dovessero sposarsi subito, dato che erano amici dalla prima elementare. Ma più cresceva, più capiva di non voler essere solo una moglie. Vuole studiare, vuole che nella vita ci sia qualcosa oltre alla casa e alla routine. Con questa comprensione, ha iniziato a guardare Costantino quasi da un punto di vista esterno. Costantino non era affatto come lo immaginava. Sì, è un bravo ragazzo. E lei lo ama, certo. Ma non con l'amore di cui leggeva nei libri. Nell'ultimo anno scolastico si annoiava a sentire come avrebbero vissuto. Lui avrebbe preso la patente, si sarebbe fatto assumere come autista. Certo, senza turni notturni o viaggi lunghi, perché avrebbe avuto una famiglia. Sì, lo stipendio sarebbe stato basso, ma le persone vivono anche con meno. Ce la faremo. Quello che più irritava Caterina era proprio questa espressione. Ce la faremo. Una volta non ce la fece più. Costantino, perché dobbiamo vivere così? Non possiamo vivere bene? Andare al mare a volte, comprare un appartamento. Guarda che ambizione. Hai deciso di scalare la società, ma i posti sono già tutti occupati. Quindi hai deciso subito che lavorerai per una miseria. Rammenderemo calze e collant e saremo felici. Lui fu sinceramente sorpreso allora. Che c'è di male? La maggior parte delle persone vive così. Che c'è di male? Che nemmeno provi a vivere diversamente? Hai semplicemente deciso che dobbiamo vivere male? Non è male, è come tutti. Non capisco se possiamo tentare di vivere meglio, perché dovremmo vivere come tutti gli altri. Poi si separarono come due nemici, senza ascoltarsi a vicenda. Non parlarono forse per una settimana, ma a scuola si incontravano ogni giorno, quindi ricominciarono a parlare. Onestamente, Caterina sperava che quella conversazione non avesse mai luogo. Pensava che Costantino avesse capito tutto. Ma Costantino non aveva capito. Continuava a pensare che Caterina sognasse solo di sposarlo e vivere come tutti gli altri. Quell'estate Caterina entrò all'università. Appena Costantino lo seppe, corse da lei. Caterina, ma sei impazzita? Quale università? 5 anni sprecati. Avresti dovuto iscriverti a una scuola professionale. In due anni avresti già guadagnato. Caterina lo guardò in modo tale che Costantino uscì in silenzio. E per tutto l'estate non si fece vedere neanche una volta. Allora la madre le disse, interessante la posizione del tuo ragazzo. Caterina si infiammò subito. Mamma, Costantino non è il mio ragazzo. Siamo solo amici. La donna sorrise. Ah, lui lo sa. Mamma, sono problemi suoi. Caterina partì per gli studi prima che Costantino fosse arruolato nell'esercito. Quando fu il momento della sua partenza, Caterina non andò appositamente in campagna per non dargli false speranze. Dopo solo tre mesi in città, capì che non sarebbe mai tornata al villaggio. Al terzo anno, Caterina capì che non voleva regali o cose del genere. Voleva guadagnarsi da vivere da sola. Elena, hai una mente così brillante. Inventiamo qualcosa. Sedevano in un caffè e Caterina cercava di convincerla a iniziare qualcosa. Un piccolo affare che poi potevano espandere e sviluppare. Caterina, ma tu stessa capisci, bisogna iniziare da qualcosa. E noi due abbiamo solo il carattere come risorsa d'oro. Elena, ma c'è qualcosa che non richiede investimenti, ma puoi semplicemente guadagnare vendendo il tuo lavoro. Elena la guardò sospettosa. Di cosa stai parlando? Solo allora Caterina capì a cosa stava pensando l'amica. Scoppiò a ridere. Elena, sei impazzita? Questa sospirò sollevata. Dannazione, non si sa mai cosa ti viene in mente. Elena, ho avuto un'idea. Bene, racconta. Elena sospirò e guardò l'orologio. Sapeva bene che finché Caterina non avesse condiviso tutte le sue idee, non sarebbero potute andarsene. La città era grande, con molte persone pigre. C'erano, per esempio, anziani che ricevevano una pensione decente ma avevano solo abbastanza energia per arrivare al negozio. E poi c'erano quelli che affittavano locali per feste. Caterina, mi spaventi davvero? Adesso hai raggruppato tutte le nazioni del mondo. Aspetta, non interrompermi. Cosa li unisce tutti? Elena sorrise. A quanto pare, quello di cui hai deciso di occuparti. Sai che c'è, Elena? Se non ti interessa, allora non ti dirò nulla. Caterina si gonfiò le guance e si girò dall'altra parte. Dai, Caterina, racconta. Li unisce il disordine. Noi possiamo mettere un annuncio che possiamo pulire gli appartamenti, sgomberare le sale da banchetto dopo le feste e tutto il resto. Ciò significa che prenderemo tali ordini solo quando possiamo. Lo studio non ne risente, guadagniamo qualche soldo e non ci annoiamo. Elena guardò Caterina. Sai, c'è qualcosa di buono in questo? Non guadagnerai una fortuna, ma bisogna cominciare da qualche parte. Caterina, mi piace, possiamo provare. Facciamo un elenco di cosa include la pulizia, quanto costa. Per un'altra ora, le ragazze trascorsero del tempo a preparare un preventivo. Hanno dovuto cercare su internet per capire quanto costano di solito questi servizi. Si è scoperto che non sono affatto economici. Desiderare di vivere in pulizia oggi è un piacere costoso. Il primo cliente chiamò dopo tre giorni. Bisogna pulire un appartamento dopo una ristrutturazione. Ma, capisco, questo non è nel vostro listino prezzi, ed è molto più complicato della pulizia normale. Pago il triplo, e se finite entro mattina, cinque volte quanto costa il vostro servizio completo. L'uomo fece una pausa, poi aggiunse. Per favore, aiutatemi. Domani dimettono mia moglie dalla maternità. E io, festeggiando la nascita di mio figlio, ho completamente dimenticato tutto. Elena e Caterina si scambiarono uno sguardo e accettarono. Entro il mattino, l'appartamento brillava di pulizia, a differenza delle ragazze. Ma oggi era sabato, e di giorno avrebbero potuto dormire. L'uomo guardò intorno soddisfatto. Beh, bravo. Se non vi dispiace, parlerò di questo servizio utile ai miei amici. Certo, non ci opponiamo. Saremmo anche grati. Né Caterina né Elena avrebbero mai immaginato che gli ordini sarebbero stati così frequenti. Non potevano rifiutare, perché le chiamate non arrivavano dagli annunci, ma dalle raccomandazioni. Dovevano accettare, sacrificare le lezioni e correre a lavorare. E non raccontare quanto fosse difficile l'ultimo anno. Fu allora che Elena propose. Caterina, prendiamo qualcun altro per aiutarci e dividiamo le responsabilità. Altrimenti non finiremo l'università e perderemo tutto qui. Caterina capì che l'amica aveva assolutamente ragione. Va bene, Elena, prometto che presto inventerò qualcosa. Caterina passò tutta la settimana a pensare e a fare calcoli. Infine si incontrarono in un caffè. Elena, propongo di dividerci. Come? Elena si spaventò sul serio. Si era già abituata a guadagni piccoli per gli standard moderni, ma enormi per quelli studenteschi. Vuoi lavorare da sola? E io non sono più necessaria. Caterina, non capendo, guardò l'amica, poi scoppiò a ridere. No, ma sei come una bambina. Parola d'onore. Come ti è venuto in mente? Allora non capisco niente. Propongo di prendere degli assistenti. Pagamento una tantum. Trovare quattro persone e chiamarle quando serve. Ad esempio, il 30% all'assistente, il 60% a noi, beh, a chi lavorerà con lui, e il 10% per stracci e detergenti. Risulterà che guadagneremo di più per ogni lavoro, perché il lavoro principale lo faremo comunque noi, ma lavoreremo meno spesso. Aspetta, aspetta. Quindi se ci sono quattro lavori a settimana, lavoriamo due volte e il resto del tempo dormiamo? Esattamente. Caterina, sei un genio. Sono d'accordo. Le ragazze si sentirono un po' sollevate, ma solo per poco. Dopo sei mesi erano appena riuscite a prendere i diplomi. Non ce la facevano, anche avendo assistenti. Un giorno Caterina invitò l'amica al caffè. Si vedevano molto raramente, perché erano sempre impegnate. Basta, Elena, non ce la faccio più. Apriamo un'azienda. Elena guardò attentamente Caterina. E allora? È un'idea. Solo che non noi, ma tu. Che imprenditrice sarai io? Sai, mi sono laureata solo grazie a te. Certo, non tornerò più al villaggio. Perché? Ancora una volta grazie alla tua idea. Ho visto una vita un po' diversa. Elena, va bene così, ma tu sei tutto esattamente come me, quindi non rifiuterai di essere il mio vice. Le ragazze scoppiarono a ridere. Elena cadde sul tavolo ridendo. Oh, non posso. Imprenditori, direttori. Caterina guardò, guardò e anch'essa non riuscì a trattenersi. Risse. Anche lei veniva dal villaggio e solo cinque anni prima poteva solo sognare di discutere seriamente l'apertura della sua azienda. A differenza di Elena, Caterina era molto economica. Quasi tutti i soldi che guadagnava, Caterina li metteva da parte. Inizialmente pensava di comprare una casa, ma poi decise che avevano bisogno di un piccolo ufficio. Ridere per ridere, ma Caterina sapeva esattamente cosa fare. Probabilmente ci pensava spesso, calcolava spesso, e nella sua mente si era formato un vero e proprio piano aziendale. Passarono altri cinque anni. In quel giorno, quando decisero di aprire la loro azienda, Elena e Caterina si incontravano sempre nello stesso caffè. Caterina guardava intorno. Elena stava tardando un po' troppo. Due anni fa Elena aveva sposato il loro pubblicitario. Certamente non c'era bisogno di tenerlo nello staff. Ma il ragazzo appariva piuttosto frequentemente. Sempre aggiornava qualcosa, aggiungeva. Diceva che la pubblicità online è così. La trascuri un momento e già è obsoleta. Caterina era molto sorpresa dallo zello del giovane per uno stipendio relativamente basso, ma un bel giorno capì da dove venisse tanto entusiasmo. Era mattina. Caterina era andata a comprare attrezzature, mentre Elena era immersa nei rapporti. Quando la giovane donna entrò in ufficio, vide subito Ilia. Voleva chiamarlo per aiutarla a scaricare la macchina, visto che comunque non aveva niente da fare. Ma nel momento successivo notò il suo sguardo, così infantilmente entusiasta, innamorato, sognatore. Caterina osservò il suo sguardo e quasi esclamò sorpresa. Lui guardava, senza distogliere gli occhi. Elena che era chinata sui documenti. Non si sa quanto sarebbero rimasti così, se a Caterina non fosse caduto uno spazzolone per terra. Ilia sobalzò e corse in aiuto di Caterina. Mentre raccoglievano tutto ciò che era caduto, Caterina chiese. Ilia, hai provato a parlarle? Il ragazzo arrossì, ma rispose, no, che dice? Lei è così, così. Caterina sorrise, capisco tutto. Una sera, quando le ragazze rimasero sole in ufficio, Caterina chiese quasi casualmente, hai visto come Ilia ti guarda? Elena posò la penna, sospirò, sì, l'ho visto. E non ti ha toccato? Caterina, certo che mi ha toccato, se avessi avuto cinque anni di meno. Caterina fissò l'amica, adesso non ho capito. Di cosa stai parlando? Di cosa di cosa? Ilia ha ventitré anni, io ventinove. Stai parlando sul serio? Elena si girò bruscamente verso di lei. No, scherzo. È solo un ragazzo giovane. Ma anche se ci fosse qualcosa, pensa tra dieci anni. Immagina, lui poco più di trenta e io quasi quaranta. Non ho bisogno di questa felicità. Guarderà le più giovani. E io soffrirò e piangerò. Caterina scoppiò a ridere. Elena, scusami, ma non ti riconosco. Ricordi quel tipo che ci ha chiamato? Quello che era in sbornia? Non aveva letto bene l'annuncio, ricordi? E come lo hai immobilizzato, nonostante i tuoi cinquanta chili? Anche quello lo ricordi? Elena sorrise. E ora tu, la persona che ha sempre detto che bisogna vivere qui e ora, stai preoccupandoti per quello che succederà tra dieci anni. Madre mia, mi fai paura. Elena guardò Caterina in modo strano e non approfondì ulteriormente l'argomento. E proprio una settimana dopo, Caterina vide quanto brillasse la sua amica e capì tutto. Al matrimonio, Ilia si avvicinò a lei. Signora Caterina, so di dovere la mia felicità proprio a te. Elena mi ha raccontato tutto di quella conversazione. Grazie. Facciamo un accordo. Quando non siamo al lavoro, sono semplicemente Caterina. Ora che ci vedremo spesso in un contesto informale. Ilia si rivelò un marito eccezionale. Nonostante la giovane età e il fatto che stesse ancora studiando. Prese molti lavori part-time. Guadagnava, ovviamente, meno di Elena, ma non di molto. E in ogni caso, Caterina era sicura che lui fosse uno di quegli uomini che lottano fino alla fine. Anche se tutto crollasse, non ci fossero soldi, né negozi. Lui avrebbe seminato segale, estratto fuoco dalla pietra, tutto per Elena. Caterina guardò l'orologio. Forse era già il momento di preoccuparsi. E poi Elena non chiama mai per dire che si ritarda. Perché fa così? Caterina sospirò e tirò fuori il telefono. Non aveva fatto in tempo a chiamare l'amica quando vide Ilia che si faceva strada verso di lei. Caterina si alzò per andargli incontro. Ora non aveva dubbi. Era successo qualcosa di grave. L'uomo si avvicinò. Si lasciò cadere sul tavolo e subito afferrò il bicchiere di succo di Caterina. Lo beve tutto d'un fiato e la guardò. Elena è in ospedale. Caterina crollò, come falciata. Cosa le è successo? Non lo so. Ilia? Che andava bene. Stava per venire da te, si sistemava davanti allo specchio. E io brontolavo che per incontrare un'amica avrebbe potuto indossare qualcosa di più semplice. Elena scherzava. Poi all'improvviso è impallidita. È diventata tutta sudata e poi è caduta. No, l'ho presa. Sono riuscito a prenderla, ma è caduta comunque. E poi? Caterina era pronta a scuoterlo. Ho chiamato l'ambulanza. L'hanno portata via. E tu? Io sono venuto qui. Elena mi ha mandato. Perché non sei andato con lei? Potevi chiamare. Chiamare? Accidenti, non ci ho pensato. Caterina si alzò di scatto, buttò dei soldi sul tavolo. Andiamo in ospedale. Ma Ilia non pensava minimamente di alzarsi e la guardò con uno sguardo compassionevole. Non andrò, non posso. Perché no? Un altro poi Caterina lo avrebbe ucciso. Ho paura che sia morta. Caterina lo guardò per un po' e solo allora capì quanto in realtà Ilia amasse Elena. Le mise una mano sulla spalla. Ilia, conosci bene tua moglie. Non morirà così facilmente. Solo se porterà via qualcun altro con sé. Andiamo. Forse ha bisogno di medicine o vestiti? Ilia si alzò di scatto. Certo, ne ha bisogno. Andiamo. Lui andò avanti. Caterina lo seguì. Quando uscirono in strada, Caterina vide la macchina di Ilia parcheggiata sul marciapiede. Sei impazzito? Perché sei entrato qui? Ilia guardò pensieroso la macchina, poi si girò verso di lei. Caterina, onestamente, non ricordo nemmeno come si è arrivato qui. Non ricordo neanche come si è arrivato fin qui. Bene, amico, vieni sul lato passeggero, altrimenti finirai per investire qualcuno. Ilia ubbidì e si sedette sul sedile del passeggero, mentre Caterina si mise al volante. Quindici minuti dopo, entrava nel cancello dell'ospedale. Ilia la seguiva. Caterina finalmente riuscì a fermare un dottore. Dopo le spiegazioni. Il dottore capì di chi e di cosa parlava Caterina. Tutto chiaro? Capito? Potete portarla a casa. Ilia si fece avanti. Dottore, come a casa? Stava quasi morendo. Suppongo che lei sia quel marito che urlava al telefono aiuto. Mia moglie sta morendo punto. Ilia annui. Che cosa posso dirle? A volte succede, ma nella mia esperienza non era mai accaduto. Andate, abbracciate vostra moglie, sostienila. Sembra che nei prossimi mesi ci sarà molta agitazione con il suo corpo e un marito panico. Ilia guardò il dottore sorpreso. Caterina prese l'iniziativa. Dottore, ho capito bene. È il futuro padre? Sì, esatto. Lei è nella stanza 6. Il dottore proseguì per il corridoio, mentre Ilia rimaneva lì. A guardarlo allontanarsi. Poi si girò verso Caterina. Caterina, cosa ha detto? Lei sorrise. Presto diventerai padre. Mezz'ora dopo, Caterina uscì all'esterno e si accese una sigaretta. Non molto tempo prima aveva acquisito questa cattiva abitudine. Tutto a causa della solitudine. Ora che Ilia correva intorno a Elena e lei batteva felicemente le ciglia. Caterina si sentiva più sola che mai. Sì, certo. C'erano i genitori. C'erano Elena e Ilia. Ma lei aveva 31 anni e si sentiva ancora sola. Caterina? Si girò di scatto. Non può essere. Costantino stava davanti a lei, sorridendo, bello, slanciato, virile. Costantino, da dove spunti? Era così felice di vederlo. Non si erano visti per circa 7-8 anni. E anche prima, solo di sfuggita in paese. Si erano scambiati un cenno su un sentiero. Poi si erano separati quando lui aveva portato la fidanzata in paese per presentarla a sua madre. Caterina aveva sentito dalla madre che Costantino non era stato sposato a lungo con la giovane moglie, forse solo un paio d'anni. Poi avevano divorziato. Non si erano più visti. Lavoro qui come autista di ambulanze. E tu che ci fai? Sei ammalata? No, è qui un'amica. Costantino, sono così contenta di vederti. Lui la guardò attentamente. Caterina, se solo sapessi quanto sono felice di vederti. Ascolta, il mio turno finisce alle 8. Forse possiamo sederci da qualche parte? Chiacchierare? Ricordare i vecchi tempi? Costantino. Mi farebbe piacere. Ma non da qualche parte. Vieni da me? Preparerò qualcosa di buono. E va bene? Marito? Figli? Non ho nessuno, quindi non fare complimenti. Caterina scrisse rapidamente l'indirizzo su un pezzo di carta e lo infilò nella mano di Costantino. Elena e Ilia stavano uscendo dall'ospedale. Elena, molto attenta, vide tutto. Appena si misero in macchina, l'amica disse. Adesso spiegami, chi è quel bel uomo che ti girava intorno? Ilia guardò Elena con indignazione e lei scoppiò a ridere. Calma, marito, in queste condizioni non si hanno avventure. Caterina sospirò. È un mio compagno di classe. In quinta elementare pensavo di sposarlo. Dopo la scuola ci siamo litigati e persi di vista. Non l'ho visto per anni e non avrei mai pensato che vivesse in città. Ecco, ecco, ecco. Elena, smettila. Non ti sei ancora ripresa del tutto e già fai indagini. Elena si girò verso Ilia. Marito, mi sembra che la nostra inaccessibile capa stia cercando di nasconderci qualcosa. Ilia sorrise. No, cara, non ti sembra. E a quanto pare è il suo primo amore. Come si sa, è il più forte. Caterina disse irritata. Basta, non parlo più con voi. Quella sera si preparò con cura. Non si preoccupò troppo per il cibo. Ordinò tutto dal ristorante più vicino. Ma lei stessa trascorse molto tempo davanti allo specchio. Arricciò leggermente i capelli e li lasciò sciolti. Accentuò di più gli occhi. Applicò un po' di cipria per non far brillare la pelle. Un tocco del suo profumo preferito e rossetto scuro. Dallo specchio la guardava una vera fan fatale. Gli occhi brillavano. Le labbra erano invitanti. Caterina aveva paura di ammetterlo a se stessa. Ma non appena vide Costantino, capì che voleva trascorrere la notte con lui. Alle otto e mezza suonò il campanello. Caterina si diede un'ultima occhiata allo specchio e andò ad aprire. Costantino teneva un mazzo di cresantemi in una mano e una bottiglia nell'altra. La fissò e rimase in silenzio. Era rimasta piuttosto soddisfatta dell'effetto che aveva avuto. Perché sei fermo? Entra! Lui fece un passo avanti in silenzio e poi si fermò di nuovo. Caterina lo aggirò, chiuse la porta e lo spinse nella stanza. Costantino finalmente iniziò a respirare di nuovo e si mosse, entrando nella stanza. Wow! Caterina, hai trovato un bel posto. È in affitto? Che cosa? L'appartamento? Sì. Caterina stessa non capiva perché avesse risposto così. Sì, un'amica è all'estero e io l'ho affitto a buon mercato. Avrebbe voluto mordersi la lingua, ma a parole dette non c'è rimedio. La serata trascorse meravigliosamente. Ricordarono storie d'infanzia e risero molto. Quando uscirono sul balcone un'altra volta, Costantino la abbracciò e Caterina si voltò verso di lui, tendendosi. Evidentemente la solitudine si faceva sentire. La notte fu semplicemente infuocata. E quando Costantino si addormentò, sparpagliato nel letto, Caterina lo guardava e pensava. Forse tra noi avrebbe potuto funzionare. Che altro desiderare? Con Costantino mi sento incredibilmente bene. La mattina, quando Costantino si svegliò, si girò subito verso Caterina. Caterina, sposami. Non ha funzionato una volta, forse adesso? Naturalmente. Avrebbe dovuto pensarci. Ma dove? Caterina accettò subito. Già prima del matrimonio, Costantino fece sedere Caterina di fronte a sé. Sarebbe stato sbagliato se non avessi raccontato tutto. Il fatto è che anch'io affitto un appartamento. In paese non c'è lavoro e lo stipendio di un autista non basta per un grande appartamento. Mia madre è malata ed è anche anziana. L'ho portata via dal paese due anni fa e ora non so cosa fare. Lasciarla in quell'appartamento e pagare per due o cosa? Caterina ricordava vagamente sua madre. Sapeva solo che l'aveva avuta già in età avanzata. Costantino, che sciocchezze. Certo, dobbiamo portarla da noi. Abbiamo tre camere, c'è posto per tutti. E ancora una volta Caterina non disse che quell'appartamento era suo, come se qualcuno le impedisse di farlo. La suocera si trasferì con loro subito dopo il matrimonio. Una mattina presto Caterina fu svegliata da un rumore. Odiava essere svegliata nei fine settimana. Si alzò, entrò in sala. Sua suocera sedeva sul divano e tirava molto rumorosamente il tè dalla tazza. Beh, non proprio come una principessa svegliata. C'è da meravigliarsi di come dorma. I vicini camminano, le macchine guidano, e lei dorme e non fa una piega. Signora Anna, voleva qualcosa? No, non volevo nulla. Le mani e le gambe sono ancora intatte. Me la cavo da sola. Anche se, naturalmente, pensavo che in ringraziamento per il fatto che mio figlio ha sposato te, una vecchia zitella. Almeno avresti potuto nutrire sua madre con una colazione. Vecchia zitella? In ringraziamento? Caterina scoppiò a ridere. Signora Anna, da quale luna è caduta? La suocera fece il broncio e si girò dall'altra parte. Caterina alzò le spalle e andò in cucina a prepararsi un caffè. Non aveva alcuna intenzione di trascorrere il suo giorno libero a cucinare. Il frigorifero era pieno di cibo. Non c'erano inabili in casa, quindi potevano cavarsela da soli. Ma dopo un mese, Costantino iniziò a parlarle. Caterina, dimmi, mi ami? Beh, certo che ti amo. Perché lo chiedi? E se mi ami, perché sei così con mia madre? Non capisco. In che modo? Beh, non la nutri. Le alzi la voce. suppongo che sia stata lei a dirtelo. E tutto ciò che dirò a mia difesa non sarà preso in considerazione. Caterina, smettila. Anche per me non è facile. Ti amo, ma amo anche mia madre. A cosa stai arrivando? Non potresti essere un po' più gentile con lei. Capisci? È una persona anziana. Caterina sospirò. Costantino, anch'io lavoro. E tua madre non è neanche malata. Potrebbe non solo prepararsi da mangiare, ma anche per noi, così da non dover cucinare dopo il lavoro. Costantino si alzò di scatto. Non avrei mai pensato che fossi così. Caterina lo guardava sorpresa. In che senso? Hai permesso a mia madre di venire qui solo perché lavorasse come una domestica. Dimentichi che è mia madre. Basta. Costantino. Calmati. Adesso ci mettiamo d'accordo. Spero che almeno sappia riscaldare il cibo. Io cucinerò alla sera. Quella notte tra loro non successe nulla per la prima volta. Lui si coricò e si girò verso il muro. Caterina lo guardò per un po', poi sbuffò e si girò anch'essa. Trascorse una notte inquieta. Strano. Non aveva fatto nulla di male alla suocera. Ma perché allora lei non la sopportava? Il problema era chiaro, ma la soluzione non si trovava. Caterina decise di ridurre al minimo le interazioni con la suocera. Passò un anno. Onestamente, Caterina era estremamente stanca. Al lavoro tutto il giorno, poi a casa servire tutti. Un mese fa lei e Costantino avevano avuto una grossa lite. Caterina aveva accennato che lui potrebbe cambiare lavoro, perché quello che guadagnava non bastava nemmeno per le necessità basilari. La signora Anna non dava loro la sua pensione. Costantino rispose con non curanza. Non esagerare. Viviamo bene. Caterina quasi si soffocò. Bene? Certo. Come no e pensi che sia grazie ai tuoi spiccioli? Costantino si girò verso di lei. Vuoi dire che è grazie al tuo stipendio da donna delle pulizie che manteniamo la famiglia? Caterina esitò. Cosa? Beh, la tua amica mi ha detto tutto. Che lavori come donna delle pulizie e non me lo dici perché ti vergogni. E sai, Caterina, forse dovresti cambiare lavoro tu, non io. È quasi imbarazzante per te. Caterina uscì in silenzio dalla stanza, si preparò e andò da Elena. Sapeva che l'amica aveva un bambino piccolo, ma aveva bisogno di sfogarsi. Elena si scusò. Cosa? Ti ha messo nei guai il tuo caro marito. Non offendersi, Caterina, ma né lui né sua madre mi piacciono affatto. Gliel'ho detto. In fondo è la verità, ma è meglio che lui non sappia tutto. Sai? Elena, ancora qualche mese fa mi sarei offesa per le tue parole, ma ora non lo farò. Sua madre mi ha già stancata abbastanza. Un mese dopo era il compleanno della signora Anna. Si era già familiarizzata con tutti nel cortile e disse a suo figlio, non a Caterina, che avrebbe voluto festeggiare un po' la ricorrenza con alcune coetanee. Costantino iniziò a parlare con Caterina tre giorni prima della festa. Caterina, mia madre, vorrebbe passare del tempo con le sue vecchiette. Bene, certo, lascia che stia con loro. Ma capisci che lei non può preparare nulla da mangiare da sola. È anziana. E allora qual è il problema? Può ordinare qualcosa? Costantino fece una smorfia. Caterina? In fondo sei sua nuora, sarebbe davvero appropriato se la aiutassi in questo. Costantino, ma io lavoro. E poi, chi pagherà per tutto il banchetto? Dai, non fare la bambina. Non abbiamo soldi in casa per un dolce o un pezzo di carne? Caterina stava per chiedere da dove potessero venire, ma Costantino già l'aveva baciata e era uscito di fretta. Caterina rimase lì ferma. Poi decise. Va bene, aiuterò la suocera, magari questo migliorerà un po' i rapporti. Quel giorno Caterina andò al supermercato al mattino. Non appena arrivò, la suocera iniziò subito a rovistare nelle borse. Caterina, non mi aspettavo altro da te. Hai comprato il salame affumicato. Chi diavolo lo mangerà? Tutti abbiamo i denti a posto qui. Non ci avevo proprio pensato. Caterina voleva aggiungere che aveva comprato anche quello bollito. Ma la suocera continuò a parlare come se non ci fosse nessuno. Ma in effetti, per chi pensare? Che tipo di cervello può avere una donna delle pulizie? Non disse nulla solo perché non voleva rovinarsi l'umore, non voleva arrabbiarsi. Ma il desiderio di colpire quella vecchia noiosa cresceva ogni giorno. Tre ore dopo, il tavolo era apparecchiato. Costantino chiamò per chiedere se stesse aiutando sua madre. Aiutando? In realtà sto facendo tutto da sola. E tua madre, come una regina, guarda e nemmeno cerca di aiutare. Caterina, calmati, non ti vergogni? Mamma è davvero anziana. E vuoi che stia in piedi ai fornelli? Arriverò presto. Aiuterò a lavare i piatti. Quando le vecchiette si riunirono in casa, Caterina andò in cucina per non disturbare. In un momento, sentì il bisogno di andare in bagno e uscì dalla cucina. Fu allora che sentì la conversazione della suocera con le altre. Una delle vecchiette diceva, brava la tua nuora. Ha preparato così tanto e ha apparecchiato il tavolo. Altre nuore sai com'è? La signora Anna rispose, e che altro può fare? Dovrebbe essere grazie che mio Costantino l'ha raccolta. Ha vissuto più di trent'anni e nessuno l'ha mai voluta. Deve esserci qualche difetto. E dove sarebbe stata se non fosse per lui? L'appartamento è in affitto. Lui paga tutto. Eccola, lavora da qualche parte come donna delle pulizie, guadagna una miseria. Caterina rimase di sasso. Una cosa è quando la suocera la punzecchia, un'altra è quando parlano di lei con degli stranei. Aspetta un attimo, signora Anna, vedrai cosa ti combino. Presto arrivò Constantine, fece un salto dalle vecchiette, salutò. Entrò in cucina, si avvicinò ad Caterina per baciarla. Ma lei si scansò, sedeva sul divanetto, leggeva un libro. Caterina, mangiamo? Prendilo, ma preparalo tu prima. Non capì come interpretarlo. Il marito torna dal lavoro e la moglie rifiuta di nutrirlo. Caterina mise da parte il libro. Perché dovrei rifiutare? Mangia, non nascondo il cibo. A proposito, non vorresti rimborsarmi quello che ho speso? Primo, abbiamo un budget condiviso. È da lì che hai speso. E secondo, che tono? Caterina, non dimenticare che mi sono sposato con te quasi per pietà. Chi altro ti avrebbe voluto a quell'età? Caterina rimase senza parole. Non trovò subito cosa dire. E non si accorse nemmeno che in cucina era apparsa la suocera. Ecco. Constantine, è quello che dico anch'io. Nessuna gratitudine. Chi ne ha bisogno? Una donna delle pulizie. A quel punto Caterina perse la pazienza. Si ritirò nella stanza. Le vecchiette non c'erano più. La stanza era un disordine. Sotto il tavolo c'era di tutto. Caterina tirò giù dall'armadio una valigia enorme. La suocera risse sotto voce. Stai pensando di andartene? Dai, vediamo quanto ti basta prima di tornare strisciando. Caterina sorrise. Aprì l'armadio e iniziò a impacchettare le cose della suocera e del marito. Constantine cercò di fermarla. Cosa stai facendo? È mio il pagamento dell'affitto di questo appartamento. Tu? Con cosa? Va bene. Paghi l'affitto. E quanto rimane per la famiglia? Basta. Sono stanca di questo circo. Questo appartamento è mio. Mio. Capisci? L'ho comprato un anno fa. E a proposito di donna delle pulizie. Potete chiamarmi così. Però io non pulisco. Ho una mia grande azienda di pulizie. E in organico più di duecento persone. Quindi di uno stipendio da donna delle pulizie potete solo sognarlo. Ah, Constantine, e restituiscimi anche le chiavi della mia auto. Non è a noleggio. Anche quella è mia. Bisognava vedere l'espressione della suocera. Batteva le palpebre. Constantine non stava meglio. Stranamente, non ebbe bisogno di dimostrarlo. Constantine le credette subito. Caterina, aspetta. Non fare una sciocchezza. Stavamo bene insieme. Ora rivedremo tutto e continueremo a vivere bene. Io, tu e mamma. No, Constantine. D'ora in poi vivrete bene voi. Tu e tua madre. E io mi arrangerò da sola con lo stipendio da donna delle pulizie. La suocera le strappò le sue cose. Non osare. Chi ti vorrà? Capisci che rimarrai sola. Caterina si voltò verso di lei. Meglio sola che con una famiglia così. Andatevene, altrimenti chiamo la polizia. Lei guardò dalla finestra aperta mentre Constantine, sua madre e una valigia enorme aspettavano un taxi. Le vecchiette sedute all'ingresso, che solo mezz'ora prima avevano mangiato e bevuto allo stesso tavolo con la signora Anna, commentavano. Davvero, quale nuora sopporterebbe un trattamento del genere dalla suocera. È quello che ti meriti, Anna. È giusto così. La donna osservava coloro che poco tempo fa annuivano in accordo a tutto ciò che diceva, rimanendo scioccata. Non solo la nuora si era rivelata ingrata, ma anche loro. Caterina chiamò Elena e le raccontò tutto quello che era successo. Lei rise. Caterina, finalmente. Vieni a festeggiare la tua liberazione. Oh, Elena, hanno fatto un tale disordine in casa. Devo pulire prima. Ma dai, la proprietaria di una compagnia di pulizie? Chiamane qualcuno, puliranno tutto loro. Caterina alzò le mani in segno di resa, chiamò una ragazza dalla sua azienda, le diede delle istruzioni preziose e si recò dalla sua amica. Elena la accolse con un sorriso, senza nemmeno sapere cosa dire. Pensavo che avresti sopportato le andierie di quella tua suocerina per sempre. Oh, Elena, nemmeno io capisco come abbia fatto a resistere così a lungo. Caterina sentì che in cucina parlava una voce maschile sconosciuta. Chi è da voi? Forse sono arrivata in un momento sbagliato? È un amico di Ilia. È passato di qui di passaggio. A proposito, è davvero un bravo ragazzo. È con quelli come lui che dovresti sposarti. Forse dovrei venire un'altra volta? Caterina, ma cosa dici? Andiamo. La donna entrò in cucina e incontrò subito lo sguardo penetrante di occhi castani. Si sentì confusa come se avesse quindici anni. Nel frattempo Elena parlava. Ti presento. Questo è Igor. Igor, questa è Caterina, la mia amica. L'uomo si alzò, prese la mano di Caterina e la baciò. Era quasi mezzo metro più alto di lei e così imponente, bello e forte. Caterina balbettò. Molto piacere e arrossì. Passarono altri due anni. Caterina viveva in un'altra città. Lì aveva aperto un'altra azienda che si sviluppava rapidamente e in modo affidabile. La prima azienda era ora gestita da Elena. Il marito di Caterina diceva che lei non aveva bisogno di lavorare. Guadagnava abbastanza per fornirle tutto il necessario e anche di più. Ma Caterina non era abituata a dipendere da altri. Tuttavia, oggi avrebbe dovuto chiedere aiuto al marito. Aveva una grande sorpresa per Igor. Molto presto non sarebbe stata più in grado di gestire l'azienda. Caterina capì che essere felici è molto semplice. Basta incontrare la propria persona. Non cercare, non aspettare, ma proprio incontrare. Allora la felicità sarà vera, come per lei e Igor. Ora non si tratta più. 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 Ora non si